E' finalmente partita la sperimentazione del sistema di prenotazione online dei tamponi drive gestiti dalla Regione Lazio, esigenza che è emersa dopo le file chilometriche e le attese interminabili che migliaia di potenziali cittadini positivi avevano dovuto affrontare prima del tampone nelle settimane precedenti. E così, dalle 14 di ieri, è possibile prenotare a partire dalla giornata odierna la possibilità di effettuare un tampone nei seguenti drive-in di Roma, ovvero in via Eugenio Mattei 72, in via Palmiro Togliatti 1200, in via Ardiatina 354 e in piazza Carlo Forlanini. Per la prenotazione sarà necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata. Cosa fare per ottenerla? Basterà rivolgersi al proprio medico di base che invierà un numero di protocollo a seguito della prescrizione del tampone. L'assistito quindi si recherà lì con tale codice e tessera sanitaria. Tale sperimentazione avrà durata di una settimana e punta a diventare operativa presto anche su altre postazioni della rete regionale. L'elenco completo dei drive-in della regione Lazio e della possibilità di prenotazione rimane disponibile esclusivamente sul sito salutelazio.it, dove è possibile rintracciare tutte le info anche su altre tematiche correlate al coronavirus, dalle indicazioni per le scuole all'app Immuni. Con 1.163.907 tamponi effettuati dall'inizio della pandemia, il Lazio prova a resistere a questa tremenda seconda ondata di coronavirus.